ragazzi questo video vuole fare un po il punto della situazione e vuole presentarvi il nuovo webinar per tutti insieme a gianni del canale energia fai da te e non solo con quelli che hanno comprato le batterie dalla mani ho parlato con la mani ed è l'azienda che pensavo fosse e ogni giorno mi conferma sempre di più questo pensiero ho detto ma quanti dall'italia stanno comprando attraverso il mio canale quasi tutti allora quasi tutti significa che anche gli altri compreranno sono una questione a volte di prezzi di budget di disponibilità c'è chi sta aspettando un momento giusto allora che ne dici facciamo il webinar sponsorizzato da te per tutti e allora abbiamo trovato un accordo dove diciamo questo sarà un webinar per tutti e con questo so di far contento e felice anche tutti coloro che non hanno potuto partecipare al primo webinar tra l'altro ragazzi è stato un successone lo dico per me perché mi sono veramente divertito tanto ma anche i commenti che avete lasciato voi partecipanti del primo webinar sono stati entusiasmati abbiamo imparato tante cose abbiamo capito tante cose come costruire un impianto fotovoltaico come creare le sintonie tra gli elementi di odio di blocco sì o no quale inverter che tipo di batteria quanti pannelli rispetto alla batteria centinaia di domande che poi ragazzi io non ce la facevo a resistere alle vostre richieste le vostre domande e invece che dalle 9 all'una abbiamo fatto dalle 9 alle 16 questo è un caso raro ragazzi non viziatevi perché c'ho la mia età e non posso fare queste sette ore tirate però è stato bellissimo quello era il primo webinar adesso il 5 novembre sabato 5 novembre se volete ovviamente se a vostro piacere segnatevi questa data perché ci sarà il secondo webinar di energia fai da te anche lì domande a non finire pensate una cosa a volte le domande che abbiamo pensiamo che siano solo nostre ma quando parliamo di energia alternativa quindi di fotovoltaico eolico idro elettrico coibentazione tutti abbiamo tantissime domande e alcune non le immaginiamo neanche ma gli altri del webinar le hanno fatte e chi le ascoltate ha detto ah anch'io potevo avere questa domanda anch'io avevo questa domanda quindi è stato veramente un webinar collettivo dove veramente io ho visto l'entusiasmo di tutti voi partecipanti ma soprattutto voi avete visto anche la mia gioia che non finiva mai di rispondere a domande e abbiamo tirato le ore 16 questo webinar vuole stare un po' nei ranghi se poi usciamo di mezz'ora un'ora fa niente quindi avrà un suo costo non è più sponsorizzato totalmente dalla mani quindi chiamatemi contattatemi sul messenger per avere tutti i dettagli e io tutti i partecipanti poi invio la lettera che spiega come partecipare al webinar l'installazione di zoom io non voglio fare webinar troppo saturi quindi questo primo esperimento è stato fantastico perché in una pagina di zoom c'erano tutti tutti voi me compreso e quindi io non dovevo sfogliare pagine per vedere le facce o aspettare le mani alzate per andare in prima linea tutti lì erano poi ragazzi vi faccio un complimento tutti educatissimi rispettosissimi ognuno delle domande dell'altro diceva questo interessante voglio aggiungere un elemento perché aveva magari un'esperienza sua personale quindi è stato veramente una cosa che ha entusiasmato me come relatore come risponditore ho visto anche tutti voi grazie a quelli che ha partecipato spero che anche al secondo webinar ci sarà lo stesso entusiasmo chiaramente dipende da voi e da me perché è una sorta di con lui o una relazione che ha l'unico scopo quello di produrre energia elettrica e quella di costruire auto costruire un impianto avvalendoci di persone qualificate detto questo questo video volevo fare un po il punto della situazione avete capito ragazzi che sta succedendo una cosa imprevista io non l'avevo prevista e ve la voglio menzionare voglio la vostra opinione ma non solo i complimenti di quali vi ringrazio ma anche il perché sta succedendo questo senza scivolare mi raccomando in tutto quello che al di fuori del canale quindi nella politica religione opinioni personali parole strane brutte quant'altro rimaniamo sempre puliti e sobri perché in questo canale si vuole insegnare a tutti a produrre la propria corrente ora qualche secondo della solita immagine di presentazione e dopo di che entriamo nel vivo ebbene in questo video breve di cosa voglio parlarvi di diverse cosettine che sono successi in questi anni con i quali insieme andiamo a verso la direzione giusta quella di produrre corrente ora avete visto che quando sono arrivato a 20.000 ho detto ragazzi ogni 10 faccio un video un po particolare un po originale volte comico volte più profondo e bene questo è successo ora quando sono arrivato a 50.000 ho detto adesso ci vediamo al prossimo ebbene da 50.000 sono riuscito a fare un video e poi in una settimana siamo arrivati a 60.000 e subito ho fatto il video dei 60 e la stessa cosa è successo dopo una settimana con quello dei 70 adesso che vi sto parlando siamo già a oltre 72.000 e questo video dei 70 non l'ho fatto perché non posso fare un video dei 10.000 e poi un altro soltanto e passerà l'altro dei 10 io non so cosa sta succedendo siete appassionatissimi di questo canale e la cosa ovviamente oltre che essere molto professionale è anche molto piacevole ora ho deciso a questo punto di non fare questo video al 70 80 90 se no significa farne tre in due settimane perché io presumo che arriveremo verso fine ottobre metà novembre invece che a fine dicembre come avevo ipotizzato arriveremo a 100.000 ora ragazzi 100.000 voglio farvi una sorpresa una sorpresa perché lì ho una pigna così stampata di fogli dove via messaggio via mail mi avete scritto Gianni vogliamo sapere cosa c'è in quello zaino lo zaino che presentai nel primo video sull'emergenza quello dell'auto vi ricorderete coloro che insomma hanno seguito il canale da quel momento ebbene io farò di più a 100.000 visto però voglio creare una relazione col canale energia da te molti di voi sanno che facevo scuole di sopravvivenza anni fa ebbene la relazione esattamente la sopravvivenza lo zaino l'auto d'emergenza e quant'altro all'interno del canale energia fai da te e quindi a 100.000 ragazzi farò un video sorpresa che riguarda proprio l'energia alternativa il survival sarà un video lungo mi sto attrezzando con anche con immagini suoni di qualità eccetera perché sarà tutto in outdoor e quindi una situazione che spero vi piacerà quindi adesso interrompiamo questi tre che avrei fatto nel giro di un mese e invece ci spostiamo al 100.000 100.000 per youtube è un momento topico un momento interessante perché a 100.000 youtube ti regala la targa alluminio plastic glass di youtube che ha raggiunto il target ora a me interessa aver raggiunto il target di voi appassionati che state guardando il canale con questa dedizione e quindi questa è la novità di questo in questo breve video il webinar che si terrà il 5 novembre dalle 9 alle 13 e oltre sicuramente oltre contattatemi su message per avere tutti i dettagli il fatto che non farò questi tre video in un mese ma farò il 100.000 che grazie a ci siamo arrivando in maniera incredibile incredibile di costiamo perché siete voi e me su questo canale c'è una collaborazione tra l'oratore lo spiegatore il tecnico e coloro che invece danno input sul canale e questo è sicuramente piacevole adesso uno dei prossimi sarà la recensione del bluetti ac 500 il nuovo bluetti da 5 kilowatt poi ci sarà un video che parlerà ancora dell'impianto economico però un ancora uno stadio successivo un po più costoso ma che da veramente potenza e questa volta siamo all'alimentazione di una casa anche significativa e poi lo dico già da un po alcuni di voi me l'hanno anche rinfacciato ma già di questo questo video questa serie nuova che sarà più di 20 video quando la fai partire ebbene ragazzi sto organizzando il tutto non è facile cerco di rispondere a tutti i messaggi brevi non posso più rispondere i messaggi lunghi e pianificazioni che devono seguire invece l'iter del webinar privato che ha un costo contattatemi su messaggio ovviamente il mio lavoro io adesso sono qua in partita iva con youtube con i video e con il webinar sono le due cose che faccio ho abbandonato completamente installazione quindi anche se mi dispiace non chiedetemi di venire installare le cose perché non lo faccio e quindi quello che faccio invece è insegnare voi o a volte fatto dei webinar anche in presenza del vostro elettricista eccetera o dell'installatore con il quale andare a dargli quelle dritte che a lui mancano perché non perché non sia capace ma perché non ha mai installato allora se una persona che è diplomata laureato e quant'altro in qualcosa ma non ha mai praticato con un qualcos'altro ha bisogno di istruzioni bene ragazzi spero di essere stato chiaro questo video breve presenta tutte queste cose che vi ho detto continuate a seguirmi continuate a messaggiare a dirmi quelle che sono le vostre richieste ma anche le vostre idee e tutto quello che sta succedendo a casa vostra nel mondo dell'energia purtroppo lo dico sempre ci saranno rincari situazioni che sono da risolvere su questo canale cerchiamo di risolverli quindi l'ultimo video che feci prima di questo che ha avuto un successo e sta avendo visualizzazioni a bizzeffe non mi fa troppo felice perché quando un video dedicato alle persone meno abbienti a successo vuol dire che ce ne sono tante avrei preferito fare video dove tutti realizzano l'impianto di casa guardatissimo bellissimo purtroppo ogni tanto devo scivolare col canale energia fai da te nei video che riguardano l'emergenza perché la strada purtroppo è quella anche a fronte di un terremoto di una calamità di della perdita di lavoro di uno sfratto situazioni per il quale tutti tutti ci potremmo trovare a dover sopperire all'energia quindi a scaldarci soprattutto perché sta a grado d'inverno ebbene questi video sono molto utili per queste persone io vi auguro come solito buona partecipazione a questo canale iscrivetevi attivate la campanella solite frasi di repertorio e grazie ancora buona visione